Uforia, uforia, è uforico Oh, guarda cosa abbiamo guadagnato Uh, la prima targhetta a mille iscritti Tornata la pizza ed è sparita la targhetta Te la portano via Quando scendi ti portano via la targhetta e torna la pizza Vieni ora a casa minaccioso o mi dai la targhetta Torni nel degrado, capito? Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef E che oggi vi mostreremo come diventare famosi su Youtube con Let's Play Simulator L'obiettivo infatti sarà quello di raggiungere un milione di iscritti Sarà facilissimo, sarà come... Assolutamente Come bere un bicchier d'acqua Besesdar Besesdar Cosa sarebbe la Bethesda o qualcosa del genere? Certo, però... Allora, ci chiedono... Di fare una recensione di un gioco horror Che dici? Per iniziare il canale è una buona cosa? Come può essere un gioco horror hot and sexy? Non lo so Me lo chiedevo anch'io, mi ho lasciato perdere Forse c'è una tipa nuda talmente brutta da essere horror Ti piace? No Ok Vabbè, che dici? No No? Come puoi iniziare un canale con una recensione? No Una recensione... Cioè, abbiamo 50 iscritti, ok? 35 dollari che vuoi spendere soldi a comprare subito un gioco solo per farci una recensione? No Ma secondo me ce lo stanno dando loro il gioco, dato che si parla... Non lo voglio fare Ok Ecco, brava Grazie Adesso come ti giustifichi con le famiglie di quelle 5 persone? Dimmi Il gioco era brutto Allora Non sempre si può avere ragione Abbiamo già perso 5 iscritti, non stiamo andando nella giusta Conoscevo i nomi, uno era... Perché c'è... No, stavo notando, mentre tu leggevi quello, cioè in che condizioni è la scrivania, perché... Io non ho parole Praticamente E perché il gatto è davanti alla webcam? Allora Ti spiego un pochettino il quadro generale Ok Ok Stai dicendo che YouTube è talmente difficile che la tua scrivania diventerà così perché non è tempo di pulire Ah vabbè, ci siamo quasi, eh Ci siamo quasi Sì, mettiamo una foto, ragazzi, è molto simile E poi il gatto è morto Perché non aveva soglie e non gli dava da mangiare Bravissima E quindi cerca di fare YouTube per vendersi l'altro gatto Vai, facciamo questo Ball of Cutie 3 Perché praticamente, metti che è uscito un gioco super figo, super in moda Te lo chiedono, tu non lo fai, loro si offendono subito, boom, così Eh, hanno ragione Ma proprio appena scrivono il commento, se non esce il video, boom, disiscritto Hanno ragione Capito? La vita allo YouTuber è dura, lo sai Anche perché guarda, ancora il giorno 1 abbiamo rifiutato 3 video e ne abbiamo già fatto uno Angry Nerf Angry Nerfs, mobile game Angry Birds I mobile game vanno sempre su YouTube Sì, facciamolo, facciamolo Ok, guarda Guarda Ok Che carino Lui è felice, lui oggi è infatti Uh, 264, ma vedi Stiamo a... Angry Nerf è il gioco che diventeremo famosi per Angry Nerf, hai visto? Hai visto? Abbiamo capito come crescere Ok, perfetto Ok, quindi siamo a 379 Eh, mica male Stop Cry Ubisoft Stop Cioè sarebbe la Ubisoft che ci propone di fare Far Cry, in sostanza è quello Allora Non va su YouTube Far Cry e Stop Cry non andrebbe neanche Ok, ok No, 14 li possiamo sacrificare You are getting old Così Ci stanno accusando Perché dice che era un gioco talmente figo che come puoi non... Vedi, siamo fuori dalla moda Dalle... Vedi, non siamo abbastanza bravi, si spiegherebbero tante cose Your poppa like a Gonzales Pardon's very active Ah dai, questo è un fake, neanche esiste È che... Uforia, uforia è uforico Oddio Sono simpaticissimo 11 Hanno sentito la battuta, non è colpa del gioco No, 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 stiamo sbagliando FIFA al fantasy FIFA al fantasy 10 Sì, dai, sì FIFA al fantasy sì Chi è che non lo conosce Anche se, però è un gioco di macchine Com'è possibile? E infatti, vedi Ok, dice che se non gli mandiamo i soldi ci butta giù il server Non si sa esattamente di che cosa Magari del TeamSpeak Comunque 5 dollari per il server Ah, gli bastano, almeno economico Ok, pensavo peggio che ci dovessimo mettere debiti o cos'è del genere Uh, un MMO Mirror's Cage Mirror's Cage Sì, questo lo facciamo, ha un bel titolo Questo è un bel titolo Guarda che bello Sembra Spore Però è finissimo Esatto, con i pennarelli Ecco, io ogni volta che ti ascolto Scusa, aspetta Il tuo canale è stato addossato dopo che hai fatto questo gioco brutto Diciamo brutto per essere gentili Ci hanno hackerato, capito? Cioè, il nostro canale è stato sospeso per un po' di tempo Perché, appunto, non potevamo fare i video Ma non è giusto Oh, guarda cosa abbiamo guadagnato Uh, la prima targhetta a mille iscritti La pizza è sparita, ok E ci sono un po' di soldi Cosa sono quelli? Non so cosa siano I gettoni per comprare il gatto Il gatto è sempre lì svenuto Ormai non se ne andrà mai più via Sarebbe trono se si muovesse Comunque, mille iscritti Dobbiamo fare lo speciale Ti sembra un buon gioco shrink? Con shrink, dai Sì, sì, sì Dici? Tu che dici? Eh, ho paura che poi magari ci accusano Che facciamo troppi video di best headsdar Ma se fanno bene vuol dire che fanno giochi fighi, capito? Non lo so Andiamo di no Ti prendi la responsabilità? No, andiamo di no Ok Rischiamo Ecco qua Abbiamo fatto arrabbiare tante persone Ma avevo tante Non so che dirti You look bad, go to sleep Ok Grazie Grazie Per il complimento È tornata la pizza Ed è sparita la targhetta Te la portano via Quando scendi Ti portano via la targhetta E torna la pizza Vieni una a casa minaccioso O mi dai la targhetta Torni nel degrado Capito? Tutti portano via tutto Perfetto Ok, allora Ci stanno proponendo La Konami A Konami Ci sta proponendo Quindi è la cognata di Konami Madonna, oggi con le battute Sono pessimo Fence, fence Resolution Simulator Stiamo facendo un simulator anche noi Quindi perché no? Perché no? Dai Però è un gioco di macchine Di nuovo Non si sa perché ogni volta E si spaventano Ok By Fabio Wire Perché non me fa schifo Non ti ispira No, non lo voglio fare Non mi piace il titolo Secondo me stai per sbagliare Non lo voglio fare Io cliccheri tutta la vita Sima ti do ascolto Ecco Porca miseria Non ha senso Perché dice che un altro Let's Player Doody Pie Ha recensito il doc Il famoso Doody Pie E se tu non copi Doody Pie Perdi gli iscritti Hanno ragione Quindi Te lo sei meritato Io te l'avevo detto Ma non ha senso Sì Sì Devi fare ciò che fanno gli altri Non ha senso Non ha senso Sexy Pie Pie Tosk Che cazzo vuol dire Non lo so Spam Puzzle game Sì Puzzle game Sì Glance vs Bubis Che puzzle game è No 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 Scusate Dal titolo no No È terribile Le Bubi Vedi le Bubi Fanno iscritti Cavolo Sì Sì È nuovo Va questo gioco Lo fateremo andare noi Con i nostri mille iscritti Oh Hai visto Mamma mia Hai visto Perché sei sculata ogni tanto No è tutta bravura La Capcom va malissimo È da un po' di tempo Che sta andando male Poi i giochi puzzle Annoiano Olè Vedi Ha venduto tre coppie Tre Madre Fratello E padre Boom Mobile Sì Mobile games Splash of Clans Questo è Clash of Clans Cioè ragazzi Se non va questo Se non va questo Questo è il gioco È sbagliato Ok Ce l'abbiamo fatta Finalmente Abbiamo superato I 3500 iscritti The Wolf Pimpong Mass Allora Questo è un simulator Sì 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 Lo facciamo Secondo me Perdiamo i nostri 3000 iscritti Non puoi perdere Dai bello Lo sapevo Non piace la Ubisoft Capito Anche se fanno Il simulator Oh 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 E la ragazza Gli dice Scorrito Se non smetti di giocare Con gli stupidi videogiochi Ti lascerò Ciao Samantha Ciao Samantha È finita Non ci vedremo mai più La chiama Oni Sam Capito Vabbè Andiamo Ha detto più o meno Quello che abbiamo detto Noi Perfetto Ci capiamo Vedi Ormai siamo in sintonia Tra youtuber e youtuber È normale Ci si capisce Io direi 11 giorni 3300 iscritti Ci accontentiamo Preserviamo ciò che abbiamo Non vorrei perdere tutto Di nuovo Ci manteniamo la nostra targhettina Stretta stretta E ci fermiamo così Che dici Ho paura Proviamo a fare questo Dai Sì Il mobile game Sì Ok mi arrendo Vedi Basta Sul fila del rasoio Ci fermiamo così Do forfè Ragazzi il video Fice così Se vi è piaciuto Ascettaci un bel like E se è la prima volta Che vedete un nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao